È stato importante il gol per la partita perché si è aperta e perché il primo tempo abbiamo avuto difficoltà nel trovare soluzioni in attacco perché venivano a pressarci uomo contro uomo, quindi avevamo poche soluzioni. Poi ho fatto questo autogol, l'ho presa di ginocchio, di stinco. Meno male che abbiamo vinto perché se no mi mangiavo le mani. Fino all'ultimo ci abbiamo creduto, ci ha detto bene, ma quando ci credi e quando ci provi fino all'ultimo i gol arrivano. Cioè al limite perché avevo visto che c'era solo un difensore della Fiorentina che poteva tenere in gioco Rick e ci ha detto non l'ho rivisto l'immagine ma penso che era proprio un millimetrico. No ma mi sono fidato delle qualità di Mancio, sapevo che Mancio mi poteva pescare perfettamente, l'ha fatto, ha fatto tutto lui. Me l'ha detto spogliato io di dirlo, quindi io ripeto. Con il mister e con lo staff me lo dicono molto spesso e so che devo migliorare perché se no non si spiega perché ho così pochi gol in carriera. Ma io cerco di migliorare ogni giorno, nelle mie lacune ci lavoro e spero di trovare altri gol e di essere più incisivo.